Musica Ciao a tutti ragazzi, qui è sempre il vostro CupKiller2000 Oggi faremo la recensione del G36C, una recensione molto particolare sul tremo delle immagini ma il risultato sarà sempre esauriente Quindi, bando alle cianci, iniziamo la recensione Il G36C vi arriverà in una scatola anonima come questa, a parte per l'etichetta che vi mostra il Jingle Works e il G36C stilizzato Dentro troveremo batteria, caricabatterie e caricatore, due spegni fiamma e l'asta pulicicana eccetera eccetera e ovviamente l'ASG Due spegni fiamma, uno in plastica rosso e uno in metallo nero più il tappino di trasporto indispensabile La filettatura è quella classica, quindi volendo potremo apporvi sopra un altro spegni fiamma differente o perché no, un bel silenziatore come questo qui dal Snipper MK che avevo già io in possesso Per lo spegni fiamma, roba importante che mi hanno dimenticato Ci vuole una brugola a parte perché nella confezione io non l'ho trovata, roba molto fastidiosa Comunque, il fucile possiede anche un bellissimo calcio in ABS, folding, che si può richiudere da un lato con questo bottoncino qui, semplicissimo Quindi è una roba molto semplice Inoltre il fucile possiede degli attacchi per la cinghia multipli Qui vediamo l'attacco principale anteriore dove si dovrebbe attaccare il bipiede Qua è quello sul body appunto e il prossimo ovviamente sarà quello sul calcio Appunto che è situato dentro il calcio Il fucile, adesso guardandolo nella foto intera, misura 71 cm e 0,9 cm per la precisione tutto aperto, col calcio aperto Col calcio chiuso 50 cm precisi Quindi, osservando le mire adesso, noterete che ha delle mire metalliche molto semplici, un po' spartane, si può dire Non è il massimo della precisione, però tra una e l'altra, notate adesso un po' la differenza com'è, è minima Quindi, insomma, la precisione non è che ne risenta più di tanto Ora, la mira più anteriore può essere rimossa dalla slitta, spingendo appunto questo pernetto che è inquadrato nella foto Benissimo Questo fucile ha un selettore ambidestro che prevede semi-automatico, sicura e raffica in full auto Il caricatore è il classico da 470 colpi traslucido, scusate, quello di serie Che appunto presenta delle scritte tipo calibro 5x45, eccetera, eccetera, è un proiettile stilizzato Stessa roba il caricatore comprato a parte, che però è opaco E quindi, entrambi hanno appunto gli agganci per essere accoppiabili Ora, una volta inseriti i caricatori, per rimuoverlo dal fuso dell'ASG, basta premere questo pulso La leva di sgancio e verrà via subito Il fucile ha una bellissima slitta superiore, nella quale possiamo collegare qualunque tipo di appunto apparato come red dot, ottiche, eccetera Qui vi ho mostrato appunto il dot che ho montato io, che adesso vedete con la brugola appunto Va stretto anche quello al body, però, alla slitta, scusate, però ha un effetto molto serio Adesso vedendo il punto rosso, è anche abbastanza visibile Poi, guardando il G36C da un'altra visuale, noteremo appunto la slitta inferiore, che è l'unica Le altre due sono opzionali, quelle laterali Al quale potremo attaccare un grip, o una lanciagnata GX, o qualunque altro tipo di accessorio che ci possa venire in mente Ora, una vista più seria del G36C, che è proprio uno stile da contractor Infatti, io dico, fucile messo, tamarrato troppo, non è bello, però questo qui, insomma, ha il suo stile, ce l'ha Ora, passando all'op up, tirando la leva d'armamento anch'essa ambidestra, si aprirà lo sportellino dell'op up, nel quale vedremo la rotellina Semplice, classica rotellina della Jing Gong Ora, per aprire la batteria, per mettere la batteria, ci troveremo un perno sopra l'astina Che basterà, dopo essere stato premuto, uscirà dall'altra parte, ovviamente, il classico perno del G36C Una volta che sarà uscito tutto il perno, potremo tranquillamente sfilare via l'astina Scoprendo, appunto, il vano batteria, il connettore TAMIA e anche il fusibile, che adesso in questa foto non si vede bene Ora, inseriamo la batteria nell'apposito spazio Una volta, appunto, inserito tutto, richiudiamo Stessa operazione di prima Qui ho fatto la foto un po' per farvi vedere come funziona Una volta chiuso, il risultato è, appunto, il classico G36C, che non è perfetto Quindi, rinseriamo il perno e ovviamente avremo il nostro G36C Perfetto, io direi che di recensioni ce ne sono state molte Adesso ho messo un piccolo paio di foto, appunto, per mostrarvelo Ne hanno fatte molte, recensioni Quindi non sapevo bene come adattare la mia recensione Per cui ho fatto una cosa molto semplice con delle immagini Spero che vi sia piaciuta E per quanto, se avete domande, chiedete pure, tanto sono qui E se non avete trovato molto esauriente il mio video Guardate quello di Criminal, che è completo, con anche smontaggi, eccetera Quindi, un saluto al vostro CupKiller2000 Ciao a tutti, ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti